Prima di iniziare con questo stupendo video level up ragazzi vi lascio qui sotto in descrizione gli appositi link per poter acquistare level up più l'instagram di level up Quindi ragazzi se volete andate a seguire anche su instagram vi ricordo che level up è una bevanda ideata dai gamer per i gamer ragazzi Vi darà concentrazione nel gaming in questo video vi farò vedere anche come creare level up Andremo a fare una breve recensione su uno degli ultimi gusti usciti sul loro sito ragazzi Ma adesso andiamo al video perchè stavo registrando un semplice video quando poi Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video Ma? Level up? Ragazzi mi sa che mi tocca registrare il nuovo video mi è arrivato il nuovo gusto Benvenuti in questo nuovissimo video level up ragazzi siamo tornati con un nuovissimo assaggio level up ragazzi della nuova bevanda Una delle nuove bevande perchè ora poco fa ne è uscita un'altra mi sa quando registrerò questo video Ed è la crazy monkey ragazzi adesso andiamo a spacchettare insieme questo pacco e andremo ad aprirlo In più ragazzi mi sa che mi hanno dato anche la carta della crazy monkey proprio come ad esempio le carte dei pokemon Adesso lo andiamo a spacchettare insieme poi andiamo a vedere come si crea level up Per tutti i consigli ragazzi iscrivetevi qui sotto nei commenti se mi volete fare domande È consigliata dai 16 anni in poi mi raccomando E iniziamo subito con il video Ok ragazzi l'ho appena tolto dal pacco io ho tolto anche lo scotch attorno ragazzi che devo dire che era abbastanza difficile da togliere Ma voi munitevi di un coltello e lo toglierete subito In più ragazzi c'è un abuso ovviamente per non far sbattere il prodotto durante il viaggio Quindi sono davvero cioè ve la consegnano in buonissime condizioni a casa ragazzi ve lo giuro Dopo ve la riprendo anche dal vivo da più vicino se non ci credete E qui ragazzi c'è anche la carta come dicevo io eccoci qui ragazzi ecco la carta della crazy monkey di level up Ragazzi l'hanno fatta anche per altre due confezioni la carta ragazzi che purtroppo non ho preso per assaggiarle Però ragazzi adesso ve le faccio vedere da più vicino adesso vi faccio una ripresa da più vicino Perché questa confezione merita un botto ragazzi merita tantissimo E adesso ve la riprendo da più vicino mi raccomando ragazzi lasciate tutti un bel like per questo video sfondatelo di like Ed eccoci qui con la ripresa dall'alto della crazy monkey ecco qui ragazzi qui sotto c'è scritto crazy monkey E qui c'è scritto level up ovviamente ragazzi una level up ai frutti ciliegia e banana Se andiamo più qui ragazzi potremo vedere ah qui c'è la scimmia Scimmietta carinissima ragazzi con la bocca spalancata tra l'altro ragazzi una bocca che arriva fino all'orecchio E poi c'è ci sono delle banane e delle ciliegie proprio come il gusto di level up Qui c'è scritto edition ragazzi perché diciamo che è una limited edition non so se è per questo che c'è scritto l'uno lì sopra E poi ragazzi qui ci sono tutti gli ingredienti ragazzi c'è abbastanza caffeina ma gli zuccheri ragazzi sono pochissimi Ne vale la pena comprarli perché con altri energy drink ragazzi non assumete gli zuccheri che assumete con level up Perché ne sono pochissimi anche se sono pochi zuccheri ragazzi ha comunque un buon sapore E adesso passiamo alla carta eccoci qui ragazzi con la carta level up Non so se si vede bene se mette a fuoco oh my god che cos'è la luminosità Ok si è rabbassata la luminosità banana whip e poi cherry bloom ragazzi qui spiega i vari ingredienti ragazzi molto bella fatta molto bene E' olografica come potete vedere non l'ho ancora cacciata dalla bustina ragazzi perché non vorrei rovinarla me la voglio tenere carissima così Ed eccoci qui ci siamo muniti di tutti gli ingredienti ragazzi abbiamo bisogno prima di tutto di uno shaker ragazzi dopo di acqua Sant'Anna no non è bello ragazzi qualsiasi tipo di acqua ma a me piace più naturale potete metterci anche l'acqua frizzante se preferite quel gusto frizzantino Anche perché con la crazy monkey ci sta un botto bene mi sa il gusto frizzantino Comunque togliamo la carta ragazzi qui dentro vi danno già il cucchiaino da mettere nello shaker per poter poi shakerarlo con l'acqua Quindi adesso andiamo a togliere questo che lo danno anche mi sa negli shaker level up che dovrò acquistare ragazzi Quindi andiamo ad aprire e andiamo ad assaggiare insieme ragazzi sentiamo prima l'odore Prova di odore Oh mio dio no no Ora sento la ciliegia nella prova di odore ragazzi ma proprio quella ciliegia quella ciliegia ragazzi che vi danno anche mi sa tipo di caramelle alla ciliegia ragazzi Dobbiamo andare a mettere un misurino preciso dentro uno shaker ragazzi e riempirlo d'acqua per 550 ml Quindi andiamola a mettere ragazzi andiamo a mettere un cucchiaino di questa roba E dopodiché dobbiamo andare a riempire questo shaker di acqua ragazzi fino a 550 ml che sono più o meno qui Quindi adesso andiamo a riempire il bicchiere d'acqua Vediamo un po' Ok sta sempre crescendo man mano sta sempre crescendo man mano Vediamo un po' eccoci qui Allora adesso andiamo a mettere il tappo e ci chiediamo vediamo un po' il colore che diventa Quindi adesso andiamo a shakerare Vediamo un po' il colore Vediamo un po' 3 2 1 Io conto sempre i secondi per shakerare ragazzi Tipo 7 secondi ragazzi si shakera tutto non rimangono residui qui sotto quindi è molto molto buono ragazzi Molto buono che non rimangono i residui così non fa male altrimenti vi ingoiate la polverina ragazzi GG per voi Allora abbiamo shakerato e adesso andiamo subito al momento dell'assaggio quindi andiamo ad aprire level up E andiamolo ad assaggiare questa nuova crazy monkey eccola qui mettiamocela qui così la vedete mentre assaggio il gusto Vado ragazzi vado Prova olfattiva mentre è nello shaker Ragazzi adesso sento anche la banana quando l'ho shakerato Allora una 3 2 1 No ragazzi guarda di assurdo Appena lo bevete io in bocca sento l'odore della ciliegia Dopo un po' di tempo si sente anche la banana ragazzi ma sono dei gusti così identici ragazzi che non ve ne accorgete Cioè non vi accorgete di quale state provando sulla vostra lingua ragazzi Sulle vostre papille gustative Cioè allora io non so adesso se sto sentendo il sapore della ciliegia o della banana Tanto che si abbinano così bene ragazzi Cioè hanno fatto degli abbinamenti molto Hanno fatto degli abbinamenti stupendi ragazzi quelli di level up Veramente molto buona ragazzi Cioè si abbinano un po' Non ho mai visto una bevanda a ciliegia e banana prima di questa level up ragazzi Io vi giuro Ed è veramente un abbinamento assurdo ragazzi Io direi di fare un sorso in ASMR Ok momento cringe ragazzi ci stava Anche perché tutto il video è stato cringe Quindi questo video può finire qui ragazzi Perché è stata veramente un'ottima bevanda Ragazzi hanno miscelato due gusti che sono spettacolari messi insieme Ragazzi non ci avevo mai pensato neanche io ragazzi prima di questa bevanda Potete aggiungerci del ghiaccio ragazzi così la mantenete fresa come bevanda Per quanto riguarda il voto ragazzi Come voto do Ragazzi ma io dovrei dare un 10 Ma è troppo banale dare un 10 A queste bevande Cioè nel senso è troppo banana Scusate per la battuta ragazzi No invece voglio dargli un 10 Voglio dargli un 10 Questa bevanda merita un voto Ragazzi si sentono tutti e due i gusti Barana e ciliegia in un modo assurdo Hanno fatto un abbinamento assurdo Quindi io per questo premio quelli di Level Up Dandoci un bel 10 Stanno tutti i link appositi in descrizione Quindi se volete acquistare Level Up Tutti i link qui sotto per andare sul loro sito E per andare anche sul loro Instagram Se li volete anche seguire nel caso su Instagram Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel like se è così Iscrivetevi al canale in tantissimi Mi raccomando schiacciate su quel tasto iscriviti Perché la maggior parte delle persone che guarda i miei video non è iscritta Cioè ragazzi il 60% non è iscritto Ma come si fa? Come si fa? Ragazzi per favore Dagli Dagli Iscrivetevi al canale Grazie Ciao ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Arrivederci Ah ragazzi inoltre mi dimentico sempre Chiudendo il discorso Level Up Ci tenevo a dirlo in questo video Perché me lo state domandando in molti Sotto i commenti dell'ultimo video Ragazzi quando riporto le live Le live riusciranno a settembre Quindi le riporterò a settembre Potrebbe essere il 15 settembre Come il primo settembre E mi raccomando ragazzi seguitemi anche per questo Perché porto live di Fortnite e di server privati Dove si possono vincere skin oppure pass battaglia Di tutto ragazzi Quindi cliccate su iscriviti Se volete seguire anche le mie live di Fortnite E ricevere notifiche quando le farò Quindi detto questo Ciao ragazzi Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione